Nelle puntate precedenti Bentornati amici del gameplay Vediamo come prosegue la storia Finisce nelle Everglades E... Fagli vedere Una mappa nautica Un lag Uno stronzo che si chiama Remy Nels Due anni fa questo Nels Non era nessuno Un puntino sullo sfondo Ora gestisce l'attività In cui era coinvolto Tyson Latchfrood Sembra un tipo ambizioso Sì, lo è Voglio che andiate in quella panghiglia Che chiamiamo Parco Nazionale E scopriate fin dove arriva la sua ambizione Signore Perché Leo ci avrebbe fatto una soffiata Sul suo capo per poi andarsene Ma Leo ha detto che non si sentiva più al sicuro In mezzo ai poliziotti Detective potete andare Allora, o l'hanno ammazzato Stanno veramente Sì, signore L'altro partner è un po' una testa calda Crede in quello che fa, signore? Bella risposta Siediti, figliolo Ci saranno delle denunce per i fatti dell'Elmore Uso eccessivo della forza Eccetera, eccetera Non preoccuparti Ci penso io Grazie, signore Lo apprezziamo molto Come è stato, madre? Come dice, capitano? Chissà quante ne ha passate Per portarti via da Cuba Non si diventa detective alla tua età Senza una verifica completa sul passato E su di te c'erano parecchie cose Signore, io... Battuto bene So cosa si prova ad avere un padre che ha una testa di cazzo Mi c'è voluto parecchio tempo per trovare la mia strada E tu? Sei su quella giusta, figliolo Continua così Allora, questo ci sta di un sacco di stronzate Wow, che bello Spettacolo La mappa di Leo è un casino La scala è sbagliata Ma... Penso che ci siamo Leo ha dato questa mappa a Dose Gli ha dato proprio lui Beh, gli ha dato una mappa veramente di merda Già, ma lui cosa ci guadagna? È questo che non riesco a capire Vi sicuro qualcuno o qualcosa lo condiziona Leo vuole farci sapere chi sta lasciando questi banetti Così possiamo eliminare la concorrenza Giusto? Leo sa che a Miami è chiuso Secondo me in questo momento sta mettendo su un laboratorio di metanfetamine nell'Iua E comunque come ti è venuto in mente di pestarlo in quel modo? Il suo atteggiamento non mi piaceva proprio Sì, però così noi potremmo avere un problema con gli affari interni Ecco l'aereo Eccolo là Stiamo prendendo i guidati Oh cazzo, guarda qua Wow Ma un po' a scatti, eh Cioè il frame non è altissimo Allora, veramente ci sta di zocco di stanza Perché noi sappiamo che andremo in prigione Ma perché? Perché quello è un bastardo? Il capo della polizia? Dove è bello il cielo, ragazzi Wow È così fotorealistico Dove cazzo stavo? Eccolo, vai E vai Sporco, cane Wow, guardate che belli Mi pagino su un super pc della madonna Con i frame sparati al massimo Come possa andare Un coccodillo Uno spacciatore Rischia di farsi decapitare Da qualche zeno Salto Cioè I americani l'amano proprio E' una gran cosa Che tu ci abbia Attivato in questo caso Sai Sì, certo Il problema è che Non potremmo parlarne Con un procuratore Di spazio Chi cazzo se ne frega Così è più divertente Finiamo male In carcere Divertentissimo proprio Vai E comunque Il capitano d'Ost Da giovane Era una testa calda Sì, mi ha giunta voce Forse un po' Troppo sopra le righe Un consiglio Qui parti benvolere Dal capitano Dirà fuori le pate Ma è così Non lo farò Vedo che inizia a capire Ma fidate Perché ci porterà Per me è lui Che ci tradisce Cioè Perché qualcosa Deve capitare Allora A tracco Del litro scivolante Fermati a un molo Per scendere Dal litro scivolante I moldi sono Indicati Dall'icona Della bandiera Ho messo la corazza Ragazzi Vediamo come va Ho messo come secondo gadget La corazza C'ho anche altri gadget Il medikit E le munizioni Ero indeciso Sto prendendo L'ambientazione Keep out Fuori Dalle palle Bella ragazzi Veramente Veramente Bella Ottimo lavoro Com'è questo Com'è questo Oh Te mareva Tacci tua Oh Mio dio Oh Mio dio Pensavo Sbagliati pulsanti Pensavo Sì Sì Grazie Grazie Forse dovremmo rimanere all'asciutto Eh sì è meglio Usciamo immediatamente dall'acqua Allora E qui dove passiamo Andiamo a raggiungere quella piattaforma Trova questo rampino Ho prego un tratto dagli suoi No 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 Aspetta Non posso però Ma al posto di chi me l'ha messa Non si sa Allora come funziona Vediamo un po' Ok è così Mazzate quanto è scomodo sto rampino Guarda Non vuoi salire Ah Fa da solo Fa Pensavo che dovremmo premere la X Invece no Oddio ma è totalmente un altro gioco Non è più Battlefield È bellissimo Cioè a me sta cosa piace tantissimo Sto sentendo tantissime critiche Sul single player di questo gioco Cioè ma prima volete i cambiamenti Vogliono i cambiamenti E poi lo criticano Quando cerca di cambiare Ma E' totalmente un altro gioco Rispetto agli altri Battlefield Obiettivo sbloccato Ma che non sono i pipistrelli Ah Batman Ah da qui dove dobbiamo andare Scusate Dovano scendere Se scendiamo ci ammazziamo Teleferica Ah ok Perfetto Chi è? Andiamo come il cavallero oscuro ragazzi Oh no Perfetto Ok Seguimi Ah ok Vai Oh livello 4 Sbloccate Nella nuova arma Mi sa Oh no Sì ma io non so Oh Uh uh Allora questa è da Ammanetta Ma lo saprei L'altra metà Contiene foglie e merda Uh guardate là Una prova Bene C'è qualcosa altro Non ci sono Ma Un'altra fottuta Brava ma Però Non c'ho Manco la pistola Quella Per Per far silenziato Quindi mi attacco Proprio al Cazzo A meno che possa ammazzare con questo Ma non penso No Quindi andiamo così Quello è da restare ragazzi Non ti girare Non ho fatto l'abbattimento Cazzo Cazzo No 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 Cavolo 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 Mendoza Non l'uccidere Non l'uccidere Non l'ho ucciso L'ha ucciso Puttana Fanculo Ce l'avevo fatta Cazzo Ce l'avevo fatta Ah Fanculo Che c'è qua Da vedere Mi vibra E poi non ci sta mai un cazzo Fanculo Che abbiamo sbloccato Che abbiamo sbloccato Vediamo un po' Oh Belle 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 Questa qua Scusate La P90 Cavolo Ah io metto la P90 Andiamo di P90 Da salto ancora niente No la P90 Arma Arma della polizia belga Andiamo Qualche Mirino nuovo No eh Ma quando mai La mimetica ragazzi Sono marroncina Cacca Eccola Qua abbiamo Sono tolla radio Ok Ci dovrebbe stare Qualche prova Di qualcosa No Strano Ma andiamo alla radio Ho una frequenza per te 120.13 Vedi qualcosa Vedo la gente morta Guarda tutti quei bei puntini di luce Su e giù per il lago Bene Prendiamo la loro barca E controlliamo Vabbè Vuoi rinforzi Non è la nostra giurisdizione Guido io Come sempre Come tutti gli stronzi Sai cosa mi spaventa di più Di questa guerra della droga Chiunque vincerà Avrà un sacco di soldi E un sacco di armi Vabbè Quando avranno finito Di ammazzarsi tra loro Verranno a cercare noi Come nel tempo Oh Oh Fermo Spostare lo scanner Beh Vediamo se c'è qualche prova Ragazzi Ce ne sono due Ma sono lontane Oh C'è un coccodrellino mio Andiamo verso lì E Continuiamo però Le episodio Nella prossima puntata Ragazzi Sennò diventa troppo lungo Allora Non so da quale parte andare Sei a destra o a sinistra Andiamo verso di qua E continuiamo verso dove stavamo andando prima Ok ragazzi Ci vediamo velocemente Con il prossimo episodio Ciao ciao ragazzi